Il grande impegno sul territorio, in particolare sul mondo della Movida per dare un segnale di presenza da parte degli agenti di polizia locale e soprattutto di un'amministrazione attenta che ha sposato la causa della tolleranza zero. Devo dire la verità, l'abbiamo già dimostrato nel periodo di natalizio con una presenza massiccia della polizia locale lungo tutto il corso cittadino, siamo stati presenti nei fine settimana, c'è stata una notte bianca che c'è stato un grosso successo sia di pubblico ma soprattutto di tranquillità e di garanzia per la sicurezza per quanto riguarda tutti i cittadini. L'amministrazione ormai non tollerà più le persone che non rispettano le regole, questa è una cosa importante, lo devono capire, noi faremo una serie di riunioni con tutti quanti, li vogliamo avvertire, però adesso vanno rispettate le regole perché non possiamo più tollerare alcune cose. L'assessore Marco Senatore, l'assessore alle attività produttive, da uno dei suoi uffici, dal SUAP è partita la chiusura per un locale della Movida Cavese, un segnale forte oggi tutti e tre insieme, tre assessori a testimonare quanto all'amministrazione comunale tenga questo argomento ma anche e soprattutto a che la città viva in tranquillità i suoi momenti di aggregazione. Sì, hai detto bene, è un monito, è un voler dire a tutti che è finito il tempo della comprensione, abbiamo fatto trascorrere anche le festività natalizie, adesso bisogna darsi una regolata. Questo non significa che noi vogliamo chiudere la Movida, significa che noi vogliamo regolamentarla, vogliamo renderla viva, vogliamo renderla sicura, vogliamo garantire gli stessi proprietari, vogliamo garantire chi viene a Cava dei Tirreni perché si vuole divertire e vogliamo garantire i residenti e tutti coloro che vivono quella realtà. Quindi chiaramente c'era necessità di applicare, non abbiamo fatto altro che applicare un regolamento che ripeto è stato condiviso dagli stessi gestori, quindi tutti lo sapevano, non è stato qualcosa che è arrivato come un fulmino al ciel sereno. Adesso spero che questo sia di monito per quei pochissimi che fino ad oggi stanno facendo il bello e il cattivo tempo. L'argomento principe di questa conferenza stampa era appunto la Movida ma in particolare anche questo cronoprogramma di riunioni che serve appunto a fare squadra, a fare sinergia con tutti gli attori di questo mondo. Sì, assolutamente vero, ripeto, nel momento in cui si è creato questo problema immediatamente ne ho parlato con il sindaco e chiaramente ho voluto coinvolgere gli assessori che hanno le stesse problematiche, quella è la sicurezza che è deputata poi al controllo e all'ambiente per tutte le problematiche. Questa è dimostrazione che è una squadra coesa che vuole lavorare per risolvere i problemi della città di Cava dei Tirreni. Avremo questi incontri perché vogliamo essere ancora più aperti, vogliamo quindi ascoltare, vedere quali sono le problematiche, portare delle limature. Gli daremo anche delle ipotesi nuove per cercare di risolvere quei problemi e li metteremo intorno a un tavolo. Prima i bar, poi i locali pubblici perché hanno problematiche diverse. Alla fine faremo una sintesi e come giunta tireremo fuori quelle nuove misure che potranno rendere la Movida bella, sicura, produttiva e non fastidiosa. Assessore Palumba, assessore all'ambiente, lei sulla Movida ha particolarmente svolto insieme alla pattuglia ambientale attività specifiche perché ci sono state moltissime infrazioni registrate e sanzionate. Nell'ambito della Movida l'aspetto ambientale è sicuramente uno di quelli più importanti per mantenere un decoro nel nostro centro storico. Questo è molto importante anche perché gli gestori o alcuni gestori devono capire che è importante soprattutto per loro perché fare una differenziata per bene e depositare i rifiuti in orari consentiti evitano tanti problemi, non solo problemi di contravenzione ma evitano tanti problemi ai cittadini di maggiore spesa, ma non solo ma ricordiamoci che i rifiuti posti a terra in orari non consoni, non differenziati, beh poi incominciamo con i ratti, incominciamo con tante altre problematiche che si aggravano. Allora è un problema anche loro che lo devono risolvere, lo si può risolvere tranquillamente differenziando bene i rifiuti e depositandoli in orari consoni. Basta, non è che ci vuole tanto, però poi se dovessero continuare come hanno continuato fino adesso alcuni locali, beh allora lì ci saranno sanzioni e chiusure perché non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più perché i costi, lo ripeto sempre, gravano su tutti i cittadini di Cava e questo non è più possibile.